Andiamo qui all'estrazione della piastra e del Fono. Qui c'è i bigliettini. Grazie, va. E non guardare. Questo è il bigliettino del Fono. Questo è il bigliettino della piastra. Vediamo i vincitori. Il numero 19 ha vinto il Fono. E la piastra ha vinto il numero 61. Chi staranno? In diretta. Chi vince la piastra? No, il Fono. Azzurra Tirusci. Grande Azza. Vince la piastra. Il numero 61. Alessandra. Ale. Ciao. Grazie di tutto. E venite a trovarci presto.